Macabra scoperta ieri sera a Giuliano in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via Ripuaria, dove i vigili del fuoco avevano appena spento l'incendio sviluppato su intorno ad una autovettura e all'interno della stessa hanno trovato il cadavere carbonizzato di una persona. Dopo i primi accertamenti, nonostante non si sia potuto procedere subito all'identificazione, si è giunto alla determinazione che si tratti di un uomo. Nel corso del soprallogo i militari hanno trovato nell'abitacolo anche una pistola calibro 7,65 con matricola che al momento risulta illegibile. Accanto al cadavere è emersa anche un ogiva dello stesso calibro, ciò lascia supporre agli inquirenti che l'uomo sia stato ucciso dapprima a colpi di pistola e poi il cadavere, che era nel portabagagli della vettura, dato alle fiamme insieme alla macchina. I carabinieri intanto sono ancora alla ricerca dell'abituale utilizzatore della vettura, che non è risultata rubata. Le indagini, secondo quanto trapela, si concentrano soprattutto nell'area del Giulianese.